Miei cari studenti di italiano, benvenuti a un altro episodio di Italy Made Easy Podcast. Il podcast audio e adesso video, creato per studenti di italiano da un madrelingua, da un team di madrelingua, che ha l'unico scopo di offrirti opportunità di ascoltare italiano naturale su argomenti interessanti, ma a una velocità ridotta. Oggi parliamo di acqua minerale, o meglio, del rapporto che abbiamo noi italiani con l'acqua. L'acqua che beviamo, ovviamente. Partiamo da un presupposto, e cioè che l'acqua del rubinetto in Italia è potabile. Non è pericolosa, possiamo tranquillamente bere l'acqua del rubinetto in Italia. Ovviamente questo esclude le fontane decorative, la fontana di Trevi. Non andiamo a bere l'acqua della fontana di Trevi, ovviamente, perché si tratta di una fontana a circuito chiuso, con l'acqua che si ricicla. E poi, se già conosci l'Italia, probabilmente sai che in Italia ci sono moltissime fontane per bere, e anche lì l'acqua è completamente sicura, senza pericoli, senza rischi. Ma allora, perché noi italiani beviamo l'acqua in bottiglia? Infatti è proprio questo l'argomento di oggi. Vorrei parlare un po' di questa fissazione, di questa mania che abbiamo noi italiani con l'acqua minerale, quella che noi chiamiamo l'acqua minerale, e cioè l'acqua in bottiglia. Attenzione però, perché il termine acqua minerale può confondere, confonde anche me, perché in pratica noi italiani, quando parliamo di acqua minerale, ci riferiamo sia all'acqua gassata, sia all'acqua naturale che spesso chiamiamo liscia. Quindi, ripeto, abbiamo l'acqua minerale che può essere o gassata o liscia, cioè senza il gas. Ma allora perché siamo fissati con l'acqua in bottiglia? Perché non beviamo l'acqua del rubinetto? Beh, sostanzialmente per due motivi, credo. Allora, il primo motivo è, a mio giudizio, un motivo particolarmente italiano. Noi non beviamo l'acqua del rubinetto per psicosi, per manie, per fobie, ecco, è una fobia. Noi italiani siamo un po' fissati con l'idea dei germi, dei batteri, delle malattie. E c'è questa opinione generalizzata in Italia che l'acqua del rubinetto potrebbe essere contaminata. La realtà è questa, ragazzi e italiani. Quindi in Italia c'è stato soltanto un caso di acqua contaminata nel comune di Pietrasanta, nella zona di Lucca. È stato un evento unico, c'era una causa specifica, è stata identificata, sono stati fatti tutti i controlli a tutta l'acqua della zona, è stata chiusa la falda che aveva il problema con l'acqua contaminata, sono state fatte analisi e controlli alle persone che avevano bevuto quell'acqua, nessuno è stato male, tutti sopravvissuti, nessun problema. Ma noi italiani abbiamo il timore che questo possa succedere ancora, che poi è praticamente impossibile grazie ai controlli che abbiamo in Europa per la qualità e la sicurezza dell'acqua. Allora, tutto è possibile, questo lo so, però è poco probabile. Un'altra fissazione di noi italiani credo sia la paura del terrorismo chimico, e cioè la paura che le acque del comune vengano avvelenate per motivi terroristici. Anche questo non è mai successo in Italia. Il secondo motivo è un motivo un po' più pratico, è un po' più logico, e cioè una questione di gusto, un gusto più raffinato perché siamo ormai abituati a bere acqua che ha un sapore buono e molto spesso l'acqua del rubinetto, anche se completamente sicura da bere, potrebbe non sempre avere un buon sapore perché abbiamo qualità di acqua diverse, acque dure, acque morbide... e poi... ecco, mi è venuta in mente un'altra cosa... in Italia si parla spesso di acqua leggera e acqua pesante. Quindi, dal punto di vista scientifico abbiamo acqua dura o acqua morbida in base alla quantità di calcare, credo. Ma che cos'è questa acqua leggera e questa acqua pesante? È qualcosa di non scientifico che a noi italiani piace considerare e piace parlare di questa cosa. Definiamo acqua leggera un'acqua che è facile da digerire e acqua pesante un'acqua che ti si piazza sullo stomaco e ti riempie. Come ho detto, non è una cosa scientifica. Molto spesso io direi che noi italiani preferiamo un tipo di acqua rispetto ad un altro tipo di acqua, soprattutto in base alle informazioni che ci arrivano da... rullo di tamburi... dalla pubblicità. Esatto, il marketing. Tutto sta nel marketing. Se ci dicono che un'acqua è buona perché è a basso livello di sodio, ok, ci crediamo e subito pensiamo che il sodio faccia male, perché ce l'ha detto la pubblicità. E quindi prendiamo un'acqua senza sodio, ma non guardiamo neanche la quantità di sodio di quell'acqua. Ci crediamo, ci dicono che acqua a basso contenuto di sodio, la compriamo. Ormai esistono vari tipi di acqua, non solo acqua gassata e acqua liscia o naturale. In Italia trovi l'acqua specifica per i bambini, acqua diuretica per mandarti al bagno, ci sono acque con i sali minerali, vari tipi di acqua ed è una mania di comprare acqua e di seguire l'ultima moda, l'ultimo trend nel mondo dell'acqua minerale. Io che cosa ne penso? Allora, confesso, anche a me piace l'acqua minerale e in particolare a me piace l'acqua gassata. Non molto gassata, ma leggermente gassata. Diciamo che non ho la paura di bere l'acqua del rubinetto, no, non sono una persona con molte fobie, molte manie. Però è vero che l'acqua del rubinetto molto spesso non mi piace, non mi piace il sapore e quindi compro anch'io l'acqua, ho confessato. Adesso che sei a conoscenza di questa mania di noi italiani per l'acqua minerale, l'acqua in bottiglia, vorrei sapere da te se tu bevi l'acqua del rubinetto o se anche tu preferisci comprare l'acqua in bottiglia. Grazie a tutti. Grazie a tutti.